Nuovissimo item su Fortnite, pistola ad aggancio, eccola qui, testiamola subito ragazzi miei, questo è quando miriamo, guardate, ok, l'ho attraccato perfettamente, andiamo, io ancora non l'ho provata Mi sa che toglie davvero tanto, aspettate rifacciamolo Ok Ragazzi è come se gli scagliassi degli agli addosso, e vanno tutti dritti lì eh